non c'è nessun aumento di abitare innanzitutto nelle perdite che ci saranno quest'anno ma è una conversione di un prestito sono debiti spostati ma a parte quello non voglio parlare di queste cose visto che il reverendo di Pechino ti aveva detto che questo bilancio sarebbe finito in pari te lo ha sventolato ti sta sventolando pioggia di milioni come quando il reverendo di Pechino ti diceva che tutta la pioggia di milioni dell'anno scorso avrebbe blindato Skriniar sempre da Pechino il reverendo ti sta dicendo tutte queste cose ora il reverendo ti tira fuori altra pioggia di milioni che non esiste perché l'Inter purtroppo brucia tantissimi soldi come tante altre squadre e il problema è che altre squadre ricapitalizzano fanno emissioni di capitali e noi non possiamo mettere un euro siamo sempre lì quindi è una strada che ti porta ad un frontale questa non vai da nessuna parte ma io voglio fare un video su una cosa che mi preme molto su una cosa che mi preme molto sono questi e fanno terrorismo su youtube raccontandovi cose che non accadono mai questi sono i primi che fanno terrorismo su youtube perché fanno parte di un regime e devono mantenere una certa linea dettata dai loro capi io non faccio parte di nessun regime attenzione io sono un socio della saga le prosciutto ma non faccio parte del regime cinese da cui mi dissocio allora allora io dico ora 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 io non me ne frega nulla l'abbiamo detto anche in live una nuova proprietà deve prendere in esame offerte faraoniche siamo tutti d'accordo ma a me non me ne frega una bella sega io è tutto l'anno che ti dico da quando ti dissi e ci sono i video che lo testimoniano diamo dieci partite di tempo a turam perché dopo due partite non so qua non mi ricordo quante quante riti e questo ragazzo ha dovuto sopportare e io dissi alla seconda partita dove tra l'altro non aveva fatto nemmeno male ma la gente che poi non calcolavano nemmeno che era un parametro zero l'ennesimo la gente pensava di aver preso la gente voleva forse qualcuno pensava di aver preso il turam non è il turam è un giocatore totalmente diverso ma io nonostante ciò alla seconda giornata di campionato mentre l'ottanta per cento degli interisti lo criticava io dissi gli vogliamo dare dieci partite poi tiriamo le somme le prime somme le teniamo tra dieci partite all'ottava partita tutti zitti poi dopo io da novembre fine ottobre inizio novembre duemila ventitré ripeto e ci sono i video non è opinabile questa roba qua ho incominciato a dire togliete la clausola a ticus turam e non scherzavo quando ho incominciato a dirlo a novembre perché da novembre duemila ventitré ad oggi a parte il periodo dell'infortunio che lo ha un po' rallentato per un mesetto e mezzo due questo ragazzo ha fatto sfraccelli ticus turam ha spaccato la serie a nel mezzo cioè lui lui praticamente è uno degli artefici dello scudetto insieme a inzaghi secondo me e a lautaro martinez è quello che ha più meriti in assoluto di questo scudetto a me non me ne frega nulla forse ci siamo capiti turam non si vende turam sono due giocatori messi insieme è un giocatore su un altro turam non lo devi vendere mai perché si va a litigare se vendi turam te lo dio subito si litiga di brutto a questo giro coppati un chioschetto di panini non rompere i coglioni con turam te ne devi andare ma te ne andrai lo so che te ne andrai so buono anch'io vendere turam ora 80 milioni capito so buono anch'io vendi i vendi classen vendi quadrato vendi arnautovic vendi questi giocatori qui vendi questi giocatori qui vendi i sanchez vendi correa che non ti riesce vendi questi giocatori qui perché a vendere barella bastoni e turam e so buono anch'io perché io dicevo lasciamolo perché poi con giudacu attenzione qui veniamo a lucacu perché devo fare un video ti devo spiegare perché non lo non lo rivolevo lucacu perché non te l'ho mai spiegato ne parlavo di mio amico michele con giudacu che è stato noleggiato per un anno a 23 milioni noleggio di lucacu un anno 23 milioni avremmo visto questo turam no perché lucacu è un rompicoglioni non ci sta in panchina zitti perché non lo volevo lucacu te lo spiego soprattutto soprattutto quando c'era quando l'inter era vicino turam ma ricordati sempre da pechino ti dicevano il reverendo di pechino ti diceva fascicolo turam inter chiuso va al milan infatti è venuto all'inter perché se lui ti dice a è matematico che accada b lucacu ha avuto tre ere nella sua carriera e ne parlavo stamattina anche con michele la migliore era di lucacu è stata quella all'everton dove il ragazzo pesava 84 kg seguimi bene perché queste analisi non te le fa nessuno seguimi bene all'everton pesava 84 kg aveva delle qualità fisiche ottimali e era tutto abbinato ad uno scatto bruciante nei primi metri perché ti ricordi lucacu ricciolone all'everton era questo lucacu quindi agilità velocità di esecuzione cioè tutte queste caratteristiche lo scatto metodo detto prima bruciante gli comprivano in gran parte le lacune tecniche perché lucacu è un giocatore con grandi lacune tecniche te lo dico io fidati cosa succede poi dopo ai giudacu che va nelle big inglesi Chelsea Chelsea Liverpool e cosa fanno le big inglesi decidono di irrobustirlo cioè irrobustendolo e potenziandolo fisicamente lo hanno reso sì più forte resistente ma gli hanno solto quelle caratteristiche che lo contraddistinguevano dagli altri calciatori ovvero sia potenza agilità insieme che coprivano diciamo le lacune tecniche perché lucacu all'everton ti spiego una cosa il 30 per cento dei gol le faceva tutti nei big match fino a scendere ad un 18 per cento di realizzazioni fatti con i top fatte con i top club quindi poi cosa succede poi va al Chelsea sappiamo tutti poi cosa ha fatto a Chelsea poi va al Manchester United l'Inter lo prende depresso dal Manchester United e lui lì fa la migliore scelta della sua carriera ovvero sia decide di venire all'Inter l'Inter lo paga uno sproposito 80 85 milioni perché con Morigno giocava non giocava erano più le partite che giocava è vero ma con Morigno ha assaggiato anche la panchina al Liverpool Lukaku se vi ricordate infatti l'Inter prende Lukaku quasi depresso dal ma dal dal Liverpool quando viene all'Inter quando Lukaku viene all'Inter visto che lui lui viene in una squadra dove c'è un allenatore che specula sugli avversari non c'è un allenatore che propone gioco un allenatore che specula dove il lavoro tecnico tatti lo fanno lo fanno soprattutto dietro e a centrocampo i braccietti a centrocampo davanti serve gente forte forte fisicamente e sfondi ma quando viene all'Inter Lukaku pesava 91 chili nonostante tutto fa un'ottima stagione ma anche con Conte fallisce tantissimi big match sia in Europa che in campionato hai la fortuna di rivenderlo a 100 a 100 e rotti milioni ma va al Chelsea e pesa 104 chili e oggi lo vediamo alla Roma che non lo riscatterà che pesa 110 chili allora quando te fai uno sport ti spiego un'altra cosa quando te fai uno sport il tuo fisico deve avere le sembianze dello sport che fai ti faccio un esempio un pilota di formula uno può essere un metro e novanta per cento chili se te guardi Lukaku non sembra uno che gioca a calcio sembra uno che fa bodybuilding parliamoci sinceramente quindi il suo fisico non è rapportato al lavoro che fa già da lì capisci che dura fatia perché è troppo grosso pesa troppo e nonostante tutto quando poi comincia a avere 31 32 anni vai passi 30 anni anche a livello fisico non hai più la forza di quando ne avevi 25 perché ti faccio un esempio in conclusione di video spesso duri fatica anche a sfondare perché se te ti ricordi la partita dell'anno scorso inter napoli con kim kim bullizza lo ha bullizzato Lukaku non gli ha fatto vedere una palla lo anticipava sempre di testa gli mangiava in testa Lukaku nullo esce kim entra one jesus ripeto stavo guardando la partita con mio fratello gli disse mio fratello guarda e ora è facile che faccia gol con jesus con kim non la non la vedrà la palla infatti esce kim per infortunio entra one jesus e Lukaku fa gol capito perché quando ti dico i giocatori non li voglio c'è sempre una motivazione dietro perché li studio i giocatori motivo per cui ritornando al discorso iniziale per quello io ti dico io tu ram lo studio da tantissimo tempo lo conoscevo benissimo come conosco benissimo zigze e come conoscevo bene tanti altri giocatori giù perché si va a litigare io te lo dio non me ne frego una sega comprati un chioschetto di zuppe giù le mani da tikus tunam ciao inter inter